buongiorno buon poveriggio buonasera ciao 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 buonasera caricate voi non lo potrete mai sapere ma in realtà si vede qualcosa dietro ma non possiamo dire che cosa possiamo dire che cosa è il momento dello chantelle time si quello quello social un po più quello un po più così all'acqua di rose perché ci piace regalare le magliette invece poi regaliamo solide realtà la parola di roberto per lì le in televisione parola di roberto palmiero che domani in quanto parlo raccissi gialluca se ne andava non è possibile torna giallo dai tornato tanto noi domani non ci siamo ma meno male guarda che un motivo in più per non guardare la trasmissione un po va bene prego vecchie ruggi vecchie no con palmiero è un personale no no io con cantella no con il tuo con tagliagambe tagliagambe è un non conduttore prego col tuo come dire in pettaio in pettaio esattamente vabbè dai allora la prima ragazzi facilissimo per favore non sbagliate allora c'ho quel grigio mister argento che se vogliamo va vicino un tantinella rao brava ragazzi no mi stiamo aiutando e soprattutto l'abbiamo fatto perché l'attore è di 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 dove è di quel posto lì dove hanno appena alzato al cielo ma anche a francoforte hanno alzato la coppa europea hanno alzato kostic e kostic quello che kostic noi vi regaleremo la sua maglia se il miglior giocatore del mio marito se ci date un cacchio di indirizzo perché datecelo per favore seconda e va bene io forse ti credo ma il mio mitra no conterò molto lentamente fino a 10 per darti il tempo di portare la tua lurida bugiarda spregevole carcassa fuori da questa stanza 1 2 10 ho detto la tu e io pensavo fosse la tu ada che è qui che non possiamo prendermi in giro assolutamente sono arrivati dei kickstart dall'altro solo cose buone per il nostro smm si dai ciao e instagram youtube twitch perché siamo anche su twitch siamo su ogni piatto che non esiste ne vitteremo una noi tra poco non saremo anche su tiktok probabilmente ma soprattutto ci vediamo dalle balls non saremo su only fans altrimenti dovreste pagare un abbonamento e poi noi non siamo disposti a scoprirci e soprattutto non siamo disposti a guardarci ciao ciao